Quest'anno stiamo per inviare gli avvisi dell'Atari per il 2019 e abbiamo utilizzato il servizio cosiddetto F24 zero code. Significa che sugli F24 che sono allegati agli avvisi di pagamento che mandiamo ai contribuenti c'è un codice a barre. Questo codice a barre è utilissimo perché consentirà all'operatore delle poste dove comunque l'utente va a pagare di acquisire direttamente in maniera automatica i dati dell'F24 quindi senza più margini di errori rispetto al pagamento e quindi all'aggancio del pagamento e la posizione del contribuente. Non è una cosa inusuale che il pagamento rechi un dato errato, basta che il codice venga sbagliato, che il pagamento viene fatto per esempio in un altro comune, il contribuente deve venire in ufficio, regolarizzare la posizione e quindi una perdita di tempo sia per lui che per noi. La riscossione volontaria è a ottimi livelli, siamo intorno al 75% che rispetto anche ad altri comuni sicuramente è una buona percentuale e abbiamo iniziato anche a fare direttamente la riscossione coattiva e anche lì abbiamo ottenuto buoni risultati. Quindi speriamo che con un senso civico maggiore dei cittadini e un'attenzione maggiore da parte nostra si paghi tutti un po' di meno.